Tennis and Friends 2022, un grande campione, un nuovo, una grande sorpresa e Paolo Bonoli se non sei una sorpresa perché tu sei ogni presente a questo Tennis and Friends Salute e sport, che messaggio vogliamo dare? Salute e sport, che messaggio vogliamo dare? Che c'è la salute e c'è lo sport, cioè c'è lo sport e non c'è la salute però per il resto va bene lo stesso Ecco, perciò invitiamo tutti quanti tutti gli anni a fare prevenzione Sempre a fare prevenzione e a comprarvi le camicie hawaiane E per voi oggi ho portato il tricolore per te per l'Inter Grazie E anche per te, così potete salutare tutti i fan bossi e del Tennis and Friends Bravo